ragazzi è possibile che nel 2023 anzi a fine 2023 perché siamo agli sgoccioli ancora devo assistere e vedere video di youtuber e buttano merda su i canali che recensiscono gli strumenti musicali e tra l'altro questi youtuber poi nei loro video chiedono l'iscrizione il like l'abbonamento la cosa che mi dispiace soprattutto è che nella sezione commenti di quei video ci sono un'infinità di commenti di consenso dove tutti hanno l'idea che youtuber sono marchettari che sono sotto scacco alle aziende che le aziende li pagano e quindi devono per forza dire quello che l'azienda vuole che addirittura le aziende di regalo nei viaggi e quindi mi fermo qui perché ne ho sentite di tutti i colori allora ragioniamo insieme su questo discorso so che siete persone intelligenti ed educate quindi scrivete nei commenti la vostra opinione io però partirei prima di youtube quindi prima dell'avvento di youtube come ci potevamo informare dei nuovi prodotti delle recensioni dei prodotti con le riviste le classiche riviste del settore ho trovato qui studio una vecchia rivista di axe axe magazine del 2008 ma ne ho tante vecchie ancora in lire quindi molto molto vecchie ne ho conservate perché prima quando avevamo necessità di restare aggiornati di scoprire dei nuovi strumenti dei nuovi pedali dei nuovi ampli e soprattutto leggere le recensioni di quei prodotti l'unico modo era di acquistare la rivista quindi andare in edicola e prendere la rivista scegliere tra le tante che c'erano oppure recarci in un negozio sperando che il negoziante avesse tutto quello che era però le novità del settore ma è una cosa molto difficile prima come ora tranne se sono negozi enormi ma se voi pensate in piccoli paesi o piccole città spesso i negoziante non ha tutto quindi l'unico modo ripeto era quello di leggere sulle riviste quelle che erano le novità del settore la rivista analizziamo adesso la rivista perché è importante ascoltate bene le mie parole perché sono tutte pesate la rivista la rivista è composta da una copertina dove ci viene indicato la metto qui così avete anche un riferimento più da vicino ed è qui 2008 ma è una delle delle tante 2008 dicembre 2008 axel magazine quindi abbiamo una copertina poi apriamo e abbiamo la pubblicità pubblicità della jackson e pubblicità dei pedali hardwire bellissimi pedali tra l'altro spero che si veda e poi andando avanti ovviamente il sommario la pubblicità su questo lato e poi le varie i vari articoli tra l'altro c'è anche una sezione con la posta quindi dove noi potevamo scrivere alla redazione e chiedere informazioni consigli opinioni eccetera ancora pubblicità poi la sezione ad esempio della recensione dei dischi molto bella con tutte le novità e e così via tra l'altro ci sono vari articoli fino ad arrivare ecco una cosa anche che era molto figa l'analisi dello stile di alcuni dei gitarino in questo caso steam horse con tutta eccola anche la intervista e poi in modo come dire le tablature dove ci sono i leak da imparare quindi erano strutturate bene o male tutte così poi ovviamente la sezione adesso la trovo la sezione della del test e la recensione degli strumenti in questo caso come descritto in copertina ci sono le recensioni dei tre strumenti che sono due fender una telecaster una stratocaster e un ibanez e qui effettivamente troviamo la tutto quella che la recensione scritta dove è strutturata bene o male sempre allo stesso modo quindi la descrizione dello strumento anche nelle sue caratteristiche tecniche e poi la prova di chi ha scritto l'articolo prova che ovviamente noi non ascoltiamo ma leggiamo e quindi deve essere molto bravo di scrivere l'articolo a farci poi a trasmetterci le sue emozioni ecco della prova che ha fatto però resta sempre una prova scritta ok poi continuando ovviamente pubblicità vedete dietro c'è anche la pubblicità di di malmesting con la sua signature il custom shop insomma più o meno bene o male tutte le riviste non strutturate in quel modo non solo ovviamente in questa rivista di ax magazine c'era la recensione di questi strumenti e gli articoli che abbiamo visto in altre riviste c'erano altri altre recensioni di altri strumenti articoli diversi ovviamente quindi già qui c'è il primo punto noi siamo costretti eravamo costretti a acquistare più riviste se volevamo essere aggiornati vedere le recensioni di strumenti diversi tenete presente che all'epoca comunque nel 2008 questa rivista costava 5 euro e 50 poi c'erano altri costano di più quindi comunque diciamo era un investimento anche nel comprare solo 34 riviste tre riviste comunque dobbiamo pagare ovviamente per prendere per acquistare la rivista adesso facciamo la comparazione con youtube quindi rivista youtube rivista la copertina dove ovviamente ci viene indicato quello che verrà recensito e alcuni articoli che ci saranno nella rivista nella copertina noi youtuber mettiamo quello che sarà l'argomento del video cerchiamo di fare delle copertine accattivanti come sono quelle delle riviste per attirare l'attenzione di chi troverà la nostra copertina nelle ecco nella ricerca di youtube e quindi entrare nel nostro video ok stessa cosa delle riviste tra l'altro come abbiamo visto appena apriamo la rivista c'è la pubblicità su youtube può partire la pubblicità anche inizio video dove vengono proposti dei degli altri strumenti o delle pubblicità come le troviamo le troviamo anzi le troviamo adesso ne troviamo più sulle riviste nel video della recensione c'è tutta la parte della descrizione tecnica dello strumento quindi con dei video dove facciamo vedere da vicino lo strumento i particolari dello strumento cosa che ovviamente sulle riviste era solo dedicata alle foto e nemmeno tante come abbiamo visto proprio in questa rivista nella sezione della recensione della ad esempio della telecaster vedete ci sono contate quattro foto ok ovviamente nel video soprattutto oggi abbiamo una risoluzione più alta delle delle soluzioni che dimostrano gli strumenti nei minimi dettagli in più poi parte la prova audio audio video dove voi ascoltate vedete lo strumento mentre lo suoniamo cosa importantissima che prima sulla rivista non era possibile perché ovviamente non era legata una cassetta o un cd con le prove audio degli strumenti quindi dobbiamo affidarci e fidarci di quello che era la sensazione di chi ha scritto l'articolo ha provato lo strumento e poi eventualmente secco lo strumento era disponibile in un negozio fisico andarlo a provare nel negozio la stessa cosa la facciamo nei video ma sia io che sono comunque un piccolo canale ma soprattutto riccardo rizzo alessandro barbetti nei video spesso e volentieri dico ragazzi provate gli strumenti andate nei negozi e metteteci le mani sopra perché è una cosa giusta perché questo perché come nel caso del recensore che ha scritto sulla rivista axe nel 2008 le sue sensazioni il suo modo di suonare è diverso dal modo nostro di suonare dalle nostre sensazioni quindi è importante comunque andare poi a provare gli strumenti oppure internet ci permette di ordinare gli strumenti di avere un tempo che non è nemmeno tanto limitato di testare bene lo strumento e vedere se quello strumento può fare a caso nostro altrimenti abbiamo la possibilità di rendere gli strumenti le possibilità ci sono e soprattutto la trasparenza di di noi youtuber non dico che siamo tutti così però ragazzi tenete presente un discorso se un canale avviato con 100 mil iscritti 200 mil iscritti 50 mil iscritti e vado a proporre strumenti che per me non sono buoni ma li propongo lo stesso con difetti con strumenti scadenti secondo voi che cosa succede poi succede che io vado a fare solo un danno al mio canale perché se poi iniziano arrivare lamentele dove la gente inizia a dire mi manda messaggio scrive nei commenti ragazzi guardate che questo strumento fa schifo totalmente e tutte quelle caratteristiche sono state elencate sono false perché ad esempio non ha la possibilità di splittare il il pick up mentre nel video viene detto che a questa possibilità che viene dato con questa tipologia di pick up ad esempio al nico invece i pick up sono ceramici insomma proprio per dirla per fare un esempio proprio alla vannamarchi come altro fatto proprio per quello la copertina ovviamente non vado altro che a danneggiare il mio canale quindi capite bene che i canali si mantengono in vita grazie anche a quello che il pubblico a quello che la community e questa community viene tradita più volte gli errori ci possono stare e sono umani quindi può capitare che può sfuggire qualcosa ed è il bello proprio che nei commenti poi viene in maniera educata indicato quella mancanza e quindi poi io a me può capire spesso capitato che ho dimenticato di dire alcuni punti importanti su alcune strumentazione io poi cosa faccio quel commento importante che evidenzia quella mancanza lo vado a inserire in descrizione scrivendo ragazzi ho dimenticato cosa importante di dire questo ma così lo fanno tutti tra l'altro io la vedo una cosa molto stupida da parte di noi youtuber di bruciarsi il suo canale proponendo solo cacate tra l'altro tornando alla rivista cosa importante l'ho detto prima lo faccio vedere qui il prezzo era di 5 euro e 50 una rivista come ho detto se eravamo più rivista doveva investire 15 20 euro su youtube qualcuno di noi o anche i canali più grandi come gas tube o febbre da chitarra quindi riccardo rizzo alessandro barbetti mi piace chiamarli con i loro nomi vi hanno mai minacciato di pagare per ogni video che hanno caricato o vi hanno mai minacciato e obbligato di fare l'abbonamento al canale o di comprare i loro corsi vi sono mai arrivate chiamate di minaccia o ve li siete mai trovati sotto casa a minacciarvi di questo ma penso che sia una cosa improponibile e poco seria ritornando alla copertina del video quindi ovviamente noi chiediamo un supporto che può essere un like un'iscrizione al canale eventualmente l'abbonamento ma lo facciamo perché questo ci aiuta effettivamente a portare avanti il canale che comunque ha delle spese quindi se ci venite incontro è bene altrimenti noi comunque continuiamo per la nostra strada perché comunque è una passione fare questo nessuno ci sta lì col coltello o con la mazza a farci lavorare per fare questo altrimenti io personalmente non l'avrei fatto soprattutto io che sono un piccolo canale e quindi ringrazio tra l'altro quelle aziende che mi danno supporto e che mi fanno portare tanti prodotti sul canale tra l'altro il discorso delle aziende vi posso garantire che le aziende ti lasciano libera scelta ma proprio perché a fronte di quello che ho detto prima se l'azienda ti costringe a dire che quell'articolo deve essere forza buono nonostante abbia dei difetti è un danno che si fa l'azienda stessa a specchio di quello che è lo youtuber perché lo youtuber propone un prodotto di un'azienda dove gli fa pubblicità e fa il nome dell'azienda se il prodotto non è valido è scadente a difetti e non li dice ovviamente tutto ricade anche sull'azienda stessa quindi capitele queste cose dobbiamo essere un po intelligenti molte volte è stato detto è ma i video spesso vengono lanciati video sugli stessi prodotti in un momento nella stessa giornata 50 video sullo stesso prodotto ragazzi torna la stessa rivista alla stessa rivista questa chitarra ad esempio la telecaster è capace che noi ce la troviamo anche su altre riviste perché è la novità del momento le riviste la pubblicizzano come ognuno con il suo recensore dove ognuno scrive le proprie sensazioni e così facciamo noi youtuber scusate ognuno di noi propone lo stesso strumento sì però con sensazioni diverse con opinioni diverse con il modo di suonare diverso quindi voi avete la fortuna di avere un'infinità di video dello stesso strumento ma con tante sfaccettature diverse tra l'altro l'azienda ti dice guarda questo prodotto è in anteprima quindi nel lancio ovviamente lo mandano prima perché lo mandano prima perché se no cosa devi dire del prodotto se te lo mandano il giorno del lancio tu non hai la possibilità di testarlo è tratto di vedere se di tuo gradimento è capace anche che ti arriva e dice guarda questo non lo voglio portare sul mio canale perché non mi convince nessuno ti costringe lo metti da parte e poi l'azienda lo ritira però l'azienda ti dice io te lo mando un mese prima dieci giorni prima quindici giorni prima perché poi ci sarà il lancio come è stato sulle riviste come su tanti altri prodotti quindi io lo testo se mi piace ci faccio il video e poi nel giorno del lancio faccio uscire il video in modo tale che c'è una serie di video con diversi youtuber dove ognuno dà la sua opinione e ha il suo modo di gestire quello strumento quel pedale in particolare quell'ambi in particolare quindi a questo punto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate cercate di essere educati ma so che siete educati e intelligenti e a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video